Qui dove siete voi era una palla di fuoco, questo Pozzo Scala era come se fosse una canna fumaria gigante. Le fiamme di oltre due metri uscivano da questa porta e poi il denso fumo. A lanciare l'allarme questa notte sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla. Ci troviamo a Montevarchi nella centralissima via Roma. L'incendio è scoppiato alle 5.30 in una palazzina storica. Ho aperto la porta, mi è apparso un muro di fumo davanti e quindi a quel punto sono andato in terrazza, spalancavo tutto, ho preso un panno, mi sono bagnato, mi sono messo di fuori e ho aspettato che venissero a prendermi. A un certo punto ho pensato fosse il momento dell'addio. A rimanere gravemente ferita una donna di 47 anni a seguito delle fiamme divampate nel suo appartamento, un monolocale dove viveva da sola. E' stata prima portata all'ospedale della Gruccia, poi elitrasportata con Pegaso al centro grandi uscionati di Pisa. Le sue condizioni sono gravi, illesi invece gli altri condomini. Resta però il grande spavento per una tragedia sfiorata. Sapendo che aveva probabilmente una bombola a propano, di quelle per cucinare, il rischio era che scoppiasse tutto l'appartamento e tutto il palazzo. Ho preso tutti, l'ho portato tutti dalla parte opposta. Sul polso, oltre ai sanitari dell'emergenza urgenza, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Dell'episodio si è già interessata anche l'amministrazione comunale. Questa persona ha rischiato ovviamente la propria vita e la vita di tutti gli abitanti del condominio. Per cui una situazione di questo genere non verrà assolutamente sottovalutata dal comune. Ripeto, faremo guerra, lo dico, ai proprietari. Non è più accettabile che si possano fare, ricavare delle abitazioni in degli spazi così angusti. Quindi sarà una guerra anti-suguri. L'appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato inagibile, visti gravi danni riportati dalla struttura. Inagibile anche un appartamento al terzo piano. Inagibile anche un appartamento al terzo piano.